Ehi, dietro! Dimmi, Sergio! Lo sai che io sono stato all'asilo con Stella? Davvero? Sì, e ho anche fatto l'asilo nido con il suo babbo! Con suo padre? Sì, Gianni! Smettila, dai! Ragazzi, alunni, maestre! Cosa vuoi fare? Voglio salutare la classe seconda C della scuola primaria San Giuseppe di Teramo! Sì, ho capito, ma una scuola è fatta da tanti allievi! Sì! Li vuoi salutare tutti? Certo! Dai, comincia! Stella! Ok! Gaia! Ok! Francesca! Sì! Redecca! Alice! Salva! Greta! Lorenzo! Jacopo! Luca! Emanuele! Franceschi, quante ce ne sono di Francesco? Due! Di Daniele? Ce ne sono due! Di Federico? Ancora due! Due Alessandro! E poi? Ryan Renato Giovanni! Bimbi, studiate, mi raccomando, fate i bravi! Io sono Lazzarone! Le maestre! Ma certo, scusa, saluta le maestre, no? Ciao maestre! Lia Cecilia Eleonora Eugenia Edith e Valeria! E a questo punto cosa devi dire? Viva la seconda C del San Giuseppe di Teramo! Ciao a tutti! La 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 la! Arrivederci! Ciao a tutti!